ciao a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo video dell'impero delle tenebre questa volta parliamo di super mini pla ovvero gli shokugan della bandai chiamiamoli candy toy perché infatti vengono venduti in confezioni con dentro la caramella che effettivamente è la cosa minore infatti i kit sono molto costosi considerando il fatto che concettualmente vengono venduti a set quindi questo è un set di quattro pezzi del gaugai gar il sesto tra l'altro set perché come serie gaugai gar ha un sacco appunto di mecha con oltre al gaugai gar in sé tanti comprimari più che altro il gaugai gar subisce anche delle trasformazioni dei power up e in questo caso infatti si tratta della final fusion ovvero l'ultima versione della serie di oav che dà il vero finale alla serie infatti la serie classica finisce in un modo un po' particolare che non aveva soddisfatto nessuno quindi poi è stata fatta una serie di oav che pone un finale che a mio avviso è altrettanto brutto però mette la parola fine più che altro fa entrare in scena un nuovo robottone il gaugai gar con tra l'altro l'assenza diciamo del vero protagonista che poi ritorna appunto con questo nuovo robottone la cosa bella di questo kit è che è diverso appunto dal classico gaugai gar il primo kit della serie non solo appunto è un'evoluzione in sé ma porta un leone leggermente diverso è il genesic galeon il gadget gao che è in realtà appunto sono tutti a forma di animale il protet gao e il brocken gao che sono a forma diciamo di tipo delfine squalo il striet gao e il spiral gao che sono due sorte di talpe e fanno poi da piedi sono separati a differenza appunto di diciamo la trivella classica e quindi in sé questo kit contiene ben sei pezzi in quattro scatole come dicevo appunto questi super mini pla sono concettualmente dei chiamiamoli giocattoli per bambini ma in realtà a livello di model kit non sono poi così inferiori a quelli che diciamo possono essere concettualmente dei kit classici considerando che vanno comunque a costare un set intorno ai 5000 yen ma hanno la per così dire particolarità di avere delle plastiche a mio avviso molto inferiori infatti questi kit puntano più che altro sulla quantità che non sulla qualità però bisogna dire che ultimamente mi sto anche ricredendo infatti le plastiche in questo caso sono più beige che bianche quelle che vanno a formare diciamo il nuovo galeon hanno comunque qua dei dettagli da poter valorizzare si tratta come potete vedere di un bel po di pezzi gli snodi di solito sono esagonali da incastrare appunto le parti rigide in questo modo alla fin fine il risultato è che rimane abbastanza articolato ma senza le polycap rimane per così dire più rigido appunto è più un giocattolo come quelli precostruiti una mini action figure che non un vero e proprio model kit almeno non di quelli di generazione il risultato finale non è malvagio ha anche un po di parti clear di solito alcuni pezzi o addirittura precolorate in questo caso sono più che altro gloss dorate per la criniera che è molto diversa da quella del galeon classico ci sono un paio di adesivi in questo caso solo due che è un grosso passo avanti in confronto ad altri kit che ne sono strapieni tra l'altro trovo che la qualità di questi adesivi non sia eccezionale quindi meglio che ce ne siano pochi i diciamo gli artigli in un arancione abbastanza gloss infatti diciamo che le plastiche sono poco rifinite in confronto a quelle di un gumpla per dire un gumpla hg a mio avviso ha delle plastiche migliori però ha queste parti che per bandai è una cosa abbastanza strana già precolorate infatti qua il dentino del galeon è già bianco non è un pezzo da agganciare come invece al vecchio galeon ed ha quindi una resa molto diversa così come anche la testa adesso andiamo a vedere la testa è già completamente precolorata con diciamo la gemma verde il retro è già colorato a differenza anche qua del vecchio galeon che andava messo un adesivo per fare quello e la punta della coda è dorata quindi come resa anche qua i denti hanno già la parte annerita dentro è discreto qua abbiamo il solito foglietto di istruzioni ripiegati in quattro completamente in giapponese perché questi kit infatti sono anche difficili da trovare al di fuori del giappone ne sono arrivati pochi come quella ad esempio di voltron solamente perché da noi è molto famoso quindi di tutta diciamo la linea dei super mini pla che comprende anche i super sentai e quindi diversi robottoni chiamiamoli dei power ranger non vengono proposti in occidente quindi si ha a mio avviso una grossa perdita qua andiamo poi a vedere il secondo foglietto che è quella per la trasformazione infatti la trasformazione in sé in questo caso è abbastanza complessa perché si sganciano e si riposizionano diversi pezzi però la cosa bella appunto è che il kit in sé è davvero davvero trasformabile è una cosa molto bella ci sono anche le varie armi e il kit in sé è discreto una cosa carina appunto il galleon si trasforma da leone ecco qua la caramella si trasforma dicevo da leone a robot e poi si può ricombinare con gli altri pezzi il kit in sé appunto non vengono solitamente venduti singolarmente infatti vi sconsiglio di comprarne una alla volta perché poi magari non trovate l'altro pezzo ed è una cosa molto brutta aprire queste confezioni non è il massimo perché hanno la chiusura strap però almeno poi una di solito la tengo per contenere le varie istruzioni e i pezzi diciamo extra perché appunto alcune cose ricombinandole vanno staccate agganciate dall'altra parte così via e avanzano qua partiamo subito con delle ali notevoli perché sono precolorate con il disegno qua dell'occhio carine molto diverse appunto di quelle che ci si aspetterebbe da un kit per bambini per così dire infatti molti modellisti solitamente schifano o evitano questo tipo di kit perché li considerano inferiori però nonostante la qualità delle plastiche che dicevo non è eccezionale il rapporto in realtà qualità prezzo considerando che molti di questi kit sono appunto trasformabili e alla fin fine appunto questo kit contiene ben sei pezzi è notevole qua ci sono davvero davvero un sacco sacco di pezzi infatti le scatole sono più grande di quelle classiche abbiamo anche le varie parti rosse con anche diciamo chiamiamola la ventola aperta che prevede questo pezzo diciamo che si trasforma in realtà questo scusate questo qua che si trasforma per fare la parata con la mano le parti grigie non mi esaltano per le ventole però direi che fanno loro davvero come dicevo a differenza del diciamo dello stilt gao questo kit contiene davvero un sacco di pezzi tra cui questi artigli già precolorati altra cosa particolare anche i pezzi della criniera extra sono già precolorati insomma a livello tecnico è molto superiore molto diverso anche qua abbiamo le diverse diciamo parti tra l'altro dorate o gloss forse qua non si vede bene con la telecamera però c'è una netta differenza di resa a occhio nudo e anche le teste sono già precolorate quindi si ha appunto il caschetto singolo o quello già con la faccia incorporata anche qua si ha un'altra testa per il galleon con due facce diverse una cosa molto valida infatti questo kit è più costoso degli altri dei gao geiger proprio perché contiene una componentistica sia come numero superiore ma anche come qualità di resa perché anche questo diadema dorato rende davvero bene si tratta appunto di un kit discreto mi sta sorprendendo per il fatto che appunto contiene un bel po' di pezzi cerchiamo anche di rimetterli ma come al solito è più difficile rimettere le cose dentro anche qua abbiamo la costruzione diciamo del collo che è tutto snodato il fatto appunto che le ali abbiano i simboli già precolorati è una buona resa la costruzione in sé non mi sembra complicata però ha davvero un sacco di pezzi che non mi aspettavo rende davvero molto bene ha anche i diversi pugni diciamo gli accessori le teste extra molto valido vediamo adesso il terzo kit della serie ovvero quello che ambro con lo squall e il delfino che a mio avviso sono sicuramente meglio del treno non tanto perché il treno fosse brutto l'astronave che c'era diciamo lo shuttle nel gao feiger ma per il fatto che come qualità per così dire ha un altro senso non so bene come spiegarlo intanto vediamo qua un bel po' di pezzi il kit contiene qualche adesivo più che altro per certi dettagli il numero sta a indicare che è l'adesivo del terzo set ci sono già un bel po' di parti precolorate questo invece è un rosso gloss abbastanza acceso che infatti sono quelli che non mi piacciono tanto questo invece già mi ispira perché diciamo le cabine sono clear colorate di opaco non so se vedete bene la resa non è malvagia anche se non mi ispira tantissimo come dicevo appunto sono due pezzi diversi quindi da anche diciamo un senso particolare al kit lo rende asimmetrico a differenza degli altri che sono uguali hanno le spalle leggermente diverse la cosa che mi piace le mani grosse sono belle sono rifinite anche perché sono già precolorate e per finire il kit ha un bel po' di parti clear per la lama che appunto dovrebbe essere di energia quindi ha un senso diverso da quello fatto con la plastica colorata un po' di giunture in una plastica sempre beige ripetiamo non è bianco ma è beige e qua ci sono invece delle parti clear che però sono meno lucide soprattutto la fiamma dà un senso diverso di diciamo dettaglio invece di essere il clear proprio acceso lo rende più sfumato passiamo ora alle parti normali che invece sono abbastanza classiche infatti poi come kitty in sé non è malvagio il fatto che siano dei pesci poi boh questa cosa del genesica forma di animali che combatte nello spazio era un po' strana più che altro alterna parti nere molto scure a queste blu nevi per così dire che non sono male hanno un po' di dettagli da rifinire per diciamo le funnel line prevede anche qui altro paio di cose snodate infatti principalmente queste parti il treno per così dire o l'astronave erano molto semplici da costruire qua la vedo già un po' più tosta anche queste sono parti blu scuro e a livello di istruzioni come dicevo la costruzione è abbastanza semplice perché sono due parti non proprio speculari ma molto simili che vanno a costruire i due pesci mammiferi non lo so come li si voglia chiamare mammiferi spaziali e poi diciamo qua l'arma con le varie giunture compresa la criniera fiammeggiante insomma come pezzi in sé non è affatto male anche questo è stata una piacevole sorpresa più che altro è perché ce n'avrò un bel po' da lavorare per costruirlo e adesso veniamo all'ultimo kit diciamo con le gambe anche qua ce n'è un bel po' di cose ci sono un bel po' di piccoli adesivi cosa che un po' mi spaventa delle parti nere abbastanza gloss anche qua ci sono delle parti precolorate non so se si nota sono grigie le punte quindi insomma a livello tecnico da questa sensazione un po' disorientante è fatto per i ragazzini per così dire però si trasforma si aggancia a un livello tecnico molto superiore a tantissimi gunpla kg per dire poi però ha delle plastiche a volte come queste molto gloss molto appunto giocattolose che andrebbero per una resa ottimale primerizzate ricolorate da zero perché qua rimangono molto lucide appunto molto giocattolo eppure poi ha delle parti clear o addirittura precolorate che danno un senso di qualità notevole e quindi è strano i super minipla sono molto strani come kit sono dei kit particolari come dicevo ne esistono davvero tanti divisi su molte serie amate dai ragazzi quindi dai ragazzini giapponesi appunto i super sentai con i loro robottoni trasformabili che purtroppo negli ultimi seri hanno sempre delle forme davvero troppo stravaganti e poi alcuni cartoni animati e cose particolari che a mio avviso comunque sono valide infatti il combattler è davvero molto bello è bello anche il d'Ancuga naturalmente lo Zambot e appunto il Voltron sono molto validi questo invece è un kit semplice comunque trasformabile chi piace Gaogai Gar a mio avviso deve averlo perché di model kit di Gaogai Gar anche se in realtà ne esistono tanti perché sia la Kotobukiya che la Bandai ne ha fatti diversi super deformed questo kit appunto è trasformabile ha una resa notevole perché comunque con poche rifiniture rende abbastanza bene continua ad avere quella diciamo quel senso di giocattoloso che forse la cosa più brutta per i collezionisti per i modellisti professionisti per così dire perché loro vedono sempre il senso del modellino come opera d'arte non lo so come spiegare a mio avviso costruirvi a secco e ottenere un buon risultato vuol dire che comunque è un buon model kit vuol dire che chi l'ha costruito chi l'ha progettato ha infuso una certa qualità un certo per così dire onore al pezzo infatti molti dei miei kit sono costruiti giusto con qualche rifinitura di panel line con i marker o qualche parte colorata non sono quasi mai andato a ricolorare completamente un pezzo gli adesivi a volte sono un buon compromesso per colorare certi dettagli altre volte sono un po' troppo invasivi e nelle parti tonde rendono male però per dire in questo gaogaiger ho delle buone vibrazioni infatti ho un kit che volevo da tempo e che finalmente mi ci posso un po' dedicare quindi andare a costruirlo e se vi interessa poi vedere come viene seguite il blog imperodeletenebre.blogspot.com così da avere anche voi un po' una visione di come viene questo pezzo non è certamente un model kit di serie A proprio perché le plastiche non sono di primo ordine e a volte viene lasciato appunto all'adesivo o alla proprio non colorazione di certi pezzi la resa e quindi non riende proprio come vorrei soprattutto perché rimane come dicevo molto giocattoloso però a mio avviso il fatto che siano trasformabili che siano agganciabili realmente tra di loro li rende sicuramente validi infatti a me robot trasformabili agganciabili mi piacciono un casino infatti non a caso il lato